La Marcia per la Pace è un appuntamento della nostra diocesi che ci attende ogni anno nel mese di gennaio e su sollecitazione del messaggio per la pace che il Papa dà al primo gennaio organizziamo un momento nel territorio della nostra diocesi per riflettere sul tema della pace ogni anno c'è un luogo diverso e quindi quest'anno siamo a Dolo in terra veneziana ed è nostro stile non fare le cose da sole ma insieme ecco perché quest'anno la marcia è diventata una marcia interdiocesana Padova e Venezia le due diocesi vicine si uniscono per marciare per la pace le comunità che accolgono l'invito ad organizzare la marcia per la pace quello che ricevono in dono è proprio la possibilità di mettersi insieme ad organizzare e sentirsi capaci di preparare e organizzare un qualcosa da donare ad altri